Una candidatura messinese per Messina in Europa sembrava che la città non dovesse avere altri candidati alle prossime europee del 26 maggio all'infuori di Daphne Musolino e invece non solo i candidati ci sono, ma Fratelli d'Italia presenta una doppia candidatura, Maria Fernanda Gervasi e Francesco Rizzo, consigliere comunale di Lipari e già consigliere comunale a Messina la cui candidatura è stata presentata questa mattina in conferenza stampa alla presenza del coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Maglio Messina Nello slogan elettorale abbiamo scritto il vento delle isole in Europa, che significa il vento della specificità, la forza dell'originalità, il genio sloci quindi la tutela delle nostre tradizioni, la pesca, l'agricoltura, la tutela del proprio territorio quindi con una lotta che dura da anni in rispetto dell'ambiente, della cultura, dell'identità nazionale e dell'autodeterminazione dei popoli un concetto forse antico ma che funziona ancora E ieri alla chiesa di Santa Maria Alemanna la presentazione della candidatura di un altro messinese Giuseppe Sanò con la lista Più Europa presenti il cofondatore Bruno Trabacci, Alessandro De Leo, coordinatore provinciale di Più Europa Messina e Fabrizio Ferrandelli, capolista e coordinatore della campagna elettorale nelle isole Cosa vuol dire far parte dell'Europa? Cosa mette a disposizione per la Sicilia, per l'Italia e l'Europa? Il problema per me è sempre stato quello di chi ci rappresenta in Europa e non dell'Europa perché ovviamente noi abbiamo a disposizione un mare di fondi Grazie a tutti!